Salve a tutti, oggi voglio parlarvi di sincronicità. Dunque, la parola sincronicità deriva dalle radici greche sin, che significa con, e kronos, che significa ora, quindi riunione nel tempo. Il termine sincronicità fu coniato da Carl Gustav Jung, il quale pubblicò un'opera nel 1952 in cui parlava di questa teoria. Secondo Jung, nessun avvenimento è un fatto accidentale, poiché la nostra vita è costellata di un insieme di coincidenze. Quante volte diciamo noi stessi, ma guarda che coincidenza, in realtà la maggior parte degli eventi sincronici che avvengono nelle nostre vite rappresentano un messaggio, un segnale, che ci indica la strada da percorrere. È bene però fare una distinzione tra coincidenza e sincronicità. La prima, come dice la parola stessa, si tratta di un caso e se è un caso non appare significativa, mentre la sincronicità appare subito con qualcosa di importante, di valore per la persona o per le persone coinvolte in quanto cade. Un evento sincronistico può racchiudere in sé diversi significati. Quando ci mettiamo in una specifica vibrazione, in maniera intenzionale, perché desideriamo veramente che accada qualcosa, oppure chiediamo un segno per comprendere cosa è meglio per noi, allora gli avvenimenti nello spazio-tempo cominciano a regolarsi secondo il nostro desiderio. Le sincronicità dapprima possono apparire semplici coincidenze, perché poco significative, fino a concretizzarsi davvero. Ed è qui che se osserviamo veramente, ci rendiamo conto che si tratta di vere e proprie sincronicità, che possiamo chiamare coincidenze significativi. Facciamo un esempio. Se incontriamo un amico che non vediamo da tempo, che però frequenta i nostri stessi posti, magari abita nel nostro stesso quartiere, beh, se lo incontriamo sicuramente è una coincidenza non significativa. Se invece questo amico che non vediamo da tempo è di Milano, noi siamo di Roma e che lo incontriamo a Firenze, beh, è una coincidenza decisamente significativa, perché è un po' particolare incontrare una persona molto lontano da casa per tutti e due, diciamo così, e quindi probabilmente ancora c'è qualcosa da vivere con questa persona, ancora un percorso da fare insieme. Come imparare a riconoscere le sincronicità nella propria vita? Semplicemente prestando attenzione a ciò che accade. Se ad esempio stiamo riflettendo su una scelta da fare, su un dilemma o altro, dobbiamo fare caso se l'universo ci risponde, ad esempio con una particolare canzone che ascoltiamo in quel momento alla radio, ad un cartellone pubblicitario che notiamo mentre stiamo passando, ad un qualsiasi messaggio quindi che possa richiamare ciò su cui stiamo riflettendo. Voglio consigliarvi un libro molto bello che parla di questo argomento. È di Deepak Chopra. Il titolo è Le coincidenze. Vi leggo poche righe. Una poesia di Rumi, uno dei miei poeti e filosofi favoriti, dice Questa non è la vera realtà. La vera realtà si trova oltre la tenda. In verità noi non siamo qui. Questa è la nostra ombra. Ciò che noi sperimentiamo come realtà quotidiana è un semplice gioco di ombre. Al di là della tenda c'è un'anima che vive, dinamica e immortale, oltre lo spazio e il tempo. Agendo da tale livello, noi possiamo influenzare in maniera consapevole il nostro destino. Ciò accade grazie alla sincronizzazione di eventi, all'apparenza a casuali, per plasmare un destino, in altre parole, il sincro destino. Noi partecipiamo così alla creazione della nostra vita, comprendendo il mondo che si estende fuori dalla portata dei nostri sensi, e cioè il mondo dell'anima. Bene, siamo giunti alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate un like e qualche commento. Si accettano anche suggerimenti per altri video. Se invece siete arrivati qui per caso, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per rimanere costantemente aggiornati. Alla prossima, ciao!